Somewhere, deep in the jungle, are living with some little men and women. They are our past. And maybe, maybe they are our future. Kiber Poetry d'Avanguardia, Introduzione Fetticcio Zero del Diario di Perla Nera, tratto 1. Le sensuali fasi per il bagnio. In un lontano futuro, nella città sommersa di Europox, un continente invaso da struciali industrie multinazionali regnava il ricordo di una selvatica natura e pacifica libertà. Era nato e si era cristallizzato un amore magico tra due anime perse nell'ostilita di Sheikimice e quartieri bellici, del mercato dominante degli Kiberfly. Perla Nera aveva ritrovato la sua felicità eterna. Nata per servire il suo padrone, nelle più profonde sfere dei piaceri essere per sempre tutta e solo sua. Le fasi per il bagnio. Mio signore eccomi a te, buon pomeriggio. La notte è trascorsa tranquilla dopo il nostro meraviglioso incontro. Come sempre sono stata benissimo con te. Non sai quanto mi rende felice poter esaudire ogni tuo desiderio. Sono nata per servirti. Non chiedo altro per poter essere veramente felice. Ci siamo incontrati in bagno, sì, come sempre. Tu eri lì, davanti a me, meraviglioso padrone mio e i miei occhi non smettevano di adorarti. Il mio corpo fremeva dalla voglia di stare tra le tue braccia. Mi hai fatto un cenno e mi sono avvicinata a te, mi sono inchinata ai tuoi piedi e tu mi hai accarezzato la testa invitandomi ad alzarmi. Mi hai stretta forte al tuo petto e mi hai baciata dolcemente. Hai voluto che riempissi la vasca da bagno con acqua calda e profumata. Dopo avermi bendato gli occhi, mi hai spogliata lentamente e mi hai fatta immergere, quindi ti sei immerso nell'acqua insieme a me. I nostri corpi uno sull'altro erano diventati un unico corpo e la pelle, scivolava rendendo tutto eccitantissimo. Tu seduto da una parte della vasca mi hai fatta sedere davanti a te, volgendoti la schiena. Hai cominciato ad insaponarmi lentamente mentre dolcemente accarezzavi il mio corpo. I miei capezzoli turgidi ti hanno fatto capire quanta voglia di te mi stesse assalendo ma tu hai voluto aspettare. Hai voluto farle aumentare. Mi hai girata verso di te e hai cominciato a baciarmi il collo, le spalle ed i seni. Prendendomi una mano, l'hai guidata sul tuo membro che era già durissimo, mentre tu giocavi con il mio clitoride. Quindi mi sono seduta su di te, per unire i nostri corpi. Ti accarezzavo il petto, mentre lentamente andavo su e giù scivolando sul tuo cazzo che pulsava per quanto era duro. Ho iniziato a baciarti e tu giocavi con i miei capezzoli. Poi mi hai presa per i fianchi facendomi accelerare i movimenti. Le nostre bocche si cercavano, le nostre lingue, come impazzite, percorrevano i nostri corpi sempre più avide dei nostri sapori. Masturbati, mi hai detto piegandomi all'indietro e così ho fatto. Tu, con il tuo cazzo dentro di me mi guardavi mentre io giocavo con il mio clitoride e mi lasciavo guidare dalle tue sapienti mani lungo la tua asta. Quando sono venuta mi hai tirata verso di te e mi hai stretta forte continuando a cavalcarmi con quanta forza e voglia avevi. Sei venuto anche tu, riempiendomi fino all'ultima goccia. Siamo rimasti così, abbracciati a coccolarci e a baciarci per un po', ma il tempo era finito e tu dovevi andare. Uscendo dalla vasca ci siamo asciugati a vicenda, accarezzando ancora un po' i nostri corpi in attesa del prossimo incontro. Per la prossima volta ho una sorpresa, mi hai sussurrato. Rivestendoti, mi hai baciata dolcemente e io sono andata a letto, in attesa che tu torni a prendermi mio signore adorato. Ti amo sempre di più, la tua perla nera. Salve, carissimi visitatori e panchetari. Il bello del cyberpark non è solo letteratura, foto, film e musica, ma una filosofia artistica e stupefacente sulle assurdità della nostra esistenza siderale e autodistruttiva, che ai margini degli impossibili ci dà non solo la sensazione allucinante, ma anche nuove percezioni oltre l'immaginabile. Godetevi le storie di fantasmagoria senza pietà in un autoprocesso alla vostra coscienza per crescere in un attimo solo e senza frontiere astrali e multiversali.